Musica E per lo speciale di Ossola News per la Festa dell'Uva siamo qui col signor Comazzi che è il? Presidente del Comitato Festa dell'Uva Allora, 88esima edizione insomma, un grandissimo risultato per la festa più longeva dell'Ossola Sì, sicuramente dopo 88 anni di sagre, di feste e di prodotti tipici che andiamo a valorizzare quest'anno abbiamo inserito una novità a livello culinario, quindi abbiamo fatto il nuovo ristorante dove proponiamo piatti sempre comunque tipici con 5 ristoratori ossolani di alta qualità e questo proprio per dare dei prodotti sempre ad un certo livello per tutte le persone che partecipano alla Festa dell'Uva Quindi parliamo di prodotti a chilometro zero, quindi incentiviamo anche quello che è i prodotti locali e soprattutto i ristoranti locali e facciamo conoscere l'Ossola anche a chi ci sta guardando ma soprattutto chi arriva da fuori Sì esatto, infatti abbiamo cominciato ieri sera con la pasta e baijan che è diventata la deco comunale sicuramente un ottimo trampolino di lancio infatti ieri sera ci sono state veramente tante persone che hanno mangiato la pasta e baijan questo è un buon segno e questa sera con le polente, quindi con tutto quello che è il discorso dei contorni tipici quindi i funghi, la selvaggina, il tappeluco e poi tutto quello che c'è in contorno quindi le grigliate con la mutunga la sau che è una specialità ormai molto rara da trovare nelle feste quindi noi spingiamo molto su questi prodotti che sicuramente danno una mano all'economia locale Certamente, abbiamo parlato appena adesso di cucina, economia locale Io vedo che ci sono veramente, ma anche guardandosi in giro ci sono tantissime persone che si adoperano per far riuscire al meglio questa festa Sì, abbiamo contato che siamo all'incirca 350 volontari che quindi lavorano non solo per i 5 giorni di festa che tutti vedono ma dietro c'è tantissimo lavoro che comincia mesi prima e anche settimane dopo perché poi bisogna comunque ritirare, mettere a posto e dobbiamo dire sicuramente che il successo di questa festa è sicuramente grazie ai volontari che tutti si danno da fare e tutti senza percepire nessun compenso quindi bisogna veramente fare un applauso a tutte queste persone che soprattutto di Masera ma anche dai paesi vicini che vengono a darci una mano Ok, una cosa, dato che siamo vicini al novantesimo magari qualcosa proprio per una grande festa per il futuro che magari non siete riusciti a organizzare quest'anno ma avete in mente per gli anni successivi? No, sicuramente non possiamo anticipare nulla perché deve essere una sorpresa perché non vorremmo che poi qualcuno ci anticipi su qualche idea Ma intanto i 90 anni li fate, gli 89-90 li fate solo voi quindi? No, vabbè, oggi non abbiamo ancora pensato al novantesimo perché pensiamo a questa perché appena cominciate dobbiamo portarla a termine sperando che il tempo ci dia una mano e sicuramente sarà una grande festa come tutti gli anni con tanta gente che verrà a trovarci Perfetto, quindi grazie mille e bocca al lupo Grazie a voi, arrivederci